circondata da edifici setto ottocenteschi sfugge agli occhi del turista distratto questa antica basilica a due passi da santa maria maggiore l'accesso principale da tempo abbandonato esso è costituito da una volta botte sorretta da due colonne di granito con capitelli ionici e con alla base capitelli tuscanici rovesciati il tutto risalente al tredicesimo secolo e introduceva attraverso una scalinata chiusa oggi ai visitatori in un cortile porticato oggi del tutto scomparso di cui rimane qualche colonna corinzia inglobata nelle costruzioni la facciata come la vediamo oggi è il risultato di un intervento del 1937 teso a ridare un aspetto medievale alla basilica con risultati da molti ritenuti discutibili la porta d'ingresso risale al tempo del cardinale carlo borromeo titolare della basilica dal 1564 mentre rimane invisibile il piccolo campanile a due piani ricavato nel transetto sinistro della chiesa nel xiii secolo per accedere occorre entrare da una porta laterale se guardate in alto potete vedere alcune delle 24 finestre originarie chiuse con la ristrutturazione del cardinale entrando è subito evidente l'impianto basilicale formato da una navata centrale due laterali eretta ex novo da papa pasquale primo nei sette anni del suo pontificato che va dall'817 all'824 è dedicata a santa prassede figlia del senatore pudente e sorella di santa potenziana e rappresenta il manifesto culturale di questo papa volto a ribadire il ruolo centrale della chiesa di roma attraverso la traslazione dei resti dei martiri dalle catecumbe le chiese e la riproposizione delle immagini sacre contro le ventate iconoclaste provenienti da oriente così come stabilito dal secondo concilio di nicea del 787 subisce nel tempo diversi interventi che risentono del clima culturale del tempo come ad esempio il pavimento in stile cosmatesco risalente al 1918 o il soffitto a cassettoni realizzato nel 1868 certamente la ristrutturazione dell'altare maggiore del presbiterio operata tra il 1728 e il 1734 per volere del cardinale ludovico pico della mirandola sul progetto dell'architetto francesco ferrari con la messa in opera di un ciborio a pianta quadrata ridimensiona l'impatto emotivo dell'abside di papa pasquale i quattro angeli di stucco con in mano i simboli del martirio sono del ticinese giuseppe rosconi le tre arcate che suddividono la navata centrale risalgono al 200 ovviamente servivano a rafforzare la struttura mentre otto colonne corinzie per lato con i capelli rifatti alla fine del cinquecento separano una navata centrale da quelle laterali le cornici superiori sono materiale di reimpiego di origine romana ed è possibile vedere qualche traccia di iscrizioni tra il 1594 il 1596 il cardinale alessandro de medici futuro papa leone undicesimo morto dopo appena 17 giorni di pontificato promuove un ciclo di otto affreschi sulle storie della passione di cristo affidando la realizzazione a una serie di pittori tardomanieristi le opere vengono inserite sopra l'architrave del colonnato e sotto le finestre volute dal cardinal borromeo all'interno di una finta architettura marmorea e hanno ai lati in basso altrettanto finti bassorilievi bronzi con storia di giuseppe ebreo realizzati dal fiorentino giovanni balducci detto il cosci e in alto angeli con gli strumenti della passione sopra piedistali ornati dallo stemma dei medici la loro lettura avviene partendo dal lato sinistro del presbiterio in senso anti orario il primo affresco sempre del balducci rappresenta gesù che prega dopo l'ultima cena nell'orto dei gezzemani poi via via la cattura di cristo tradito da giuda con pietro che taglia l'orecchio al servo malco del romano paris nogari cristo condotto al cospetto di caifa il sommo sacerdote del lucchese girolamo massei quindi gesù e ponzio pilato del fiorentino agostino ciampelli e sempre dello stesso la flagellazione e a seguire l'incoronazione di spine del bolognese baldassarre croce ancora del ciampelli lecce omo e infine l'incontro con la veronica del già citato balducci superando il momento funerario del cardinale silvio santa croce del 1603 c'è la prima cappella a destra attualmente dedicata alla madonna del rosario chiusa al pubblico la volta di fine ottocento all'interno non visibile presenta un dipinto di domenico pestrini del beato tesauro beccaria decapitato dai gualfi fiorentini nel 1258 che dante colloca all'inferno come traditore della patria nel ventiduesimo canto mentre la pala d'altare di filippo luzzi da monte compatri rappresenta san bernardo degli uberti che ferma le acque del po in piena cosa che di questi tempi causa la siccità non gli sarebbe valsa la santità tutti i rappresentanti delle tele dipinte tra fine seicento i primi del settecento sono monaci valombrosani ordine a cui è stata affidata la basilica fin dal 1198 proseguendo troviamo la cappella cesi anche questa non visitabile che presenta una volta secentesca dipinta da guillaume courtois detto il borgognone al centro dio benedicente nei quattro pennacchi papa pasquale con il molellino della chiesa san filippo neri santa francesca romana con un libro in mano e santa firminna con la palma del martirio nelle pareti laterali sempre del borgognone un'adorazione dei magi e la visione della nascita di maria di fronte la tela raffigurante san pio decimo del 1955 circa opera di luciano bartoli ma passiamo al vero gioiello della chiesa la cappella di san zenone forse il monumento più significativo del nono secolo a roma all'ingresso sul portale tutto costruito con materiale di reimpiego la scritta sotto l'architrave rivela inequivocabilmente l'intervento diretto del papa non solo come finanziatore ma anche come ideatore stesso sopra il portale ai lati di una finestra dove poggia un'urna cineraria del terzo secolo in due serie di clipei sono inserite le immagini della madonna col bambino due santi forse san zenone san valentino e altre otto non meglio identificate sante mentre nel semicerchio esterno troviamo il cristo e gli apostoli in alto forse mosè ed elia e in basso due papi di cui uno dovrebbe essere pasquale aggiunti nell'ottocento entrando sia la sensazione di essere proiettati in un'altra dimensione dove il tempo scompare e lo spazio respira lento ora si contrae ora si espande in alto quattro angeli sostengono un clipeo con raffigurato cristo a mezzo busto sono virtualmente sostenuti da altre tante colonne nel pavimento in corrispondenza del clipeo vediamo un cerchio di porfido rosso contornato da marmi multicolori un raro esempio di opus sectile miracolosamente sopravvissuto alle molteplici ristrutturazioni nella controfacciata è rappresentata l'etimasia ovvero la preparazione rappresentata da un trono vuoto con il simbolo di gesù in attesa del suo ritorno per il giudizio universale nella parete sinistra a scendere sono rappresentate le santa agnese pudenziana e prassede che con le mani velate portano la corona del martirio quindi l'agnello divino con i cervi che si disse dal fiume della vita che si dirama in quattro rivi poi nella parte interna dell'arco cristo che scende all'inferno per liberare ad amedeva e nell'ultimo riquadro la madonna tra le sante prassede e pudenziana e avvolta nel nimbo quadrato perché ancora vivente teodora episcopa in quanto madre di papa pasquale e siccome la mamma è sempre la mamma qui lei sarà sepolta sulla parete di destra separati da una finestra cieca i santi giovanni raffigurato sempre giovane con il vangelo e andrea e giacomo con i rotoli della legge e nella lunetta sottostante cristo benedicente tra due santi forse san valentino e san zenone sotto ricavata da una nicchia una piccola cappella dedicata alla sagra colonna dove sarebbe stato flagellato gesù portata a roma durante la quinta crociata nel 1223 e inserita in un reliquiario bronzeo di fine ottocento su bolsetto di duilio cambellotti nella parte frontale in alto maria e san giovanni battista nell'atteggiamento proprio della deesis ovvero l'intercessione attraverso la preghiera per la salvezza del genere umano qui però il cristo è sostituito simbolicamente da una finestra da cui entra la luce nell'arco sottostante decorato con fiori animali troviamo un episodio dei vangeli la trasfigurazione quando gesù si apparta con pietro giovanni e giacomo di cui si vede solo la manina e si mostra in tutto il suo splendore insieme a mosè e al profeta elia nell'altare tra due colonnine dall'abbastro con capitelli ionici una cornice linea seicentesca inquadra la vergine con il bambino che benedice e sulla mano sinistra un cartiglio con la scritta io sono la luce accanto le due sante per sede potenziala questa raffigurazione potrebbe risalire alla seconda metà del 1200 nell'ultima cappella della navata destra infine il momento funebre al cardinale alano setivi di origine bretone titolare della chiesa fino alla sua morte avvenuta nel 1474 opera attribuita ad andrea bregno considerato il più grande scultore lombardo del 400 sopra la statua del cardinale che riposa su un sarcofago due bassorilievi rappresentano san pietro con la chiave e san paolo che impugna l'elsa della spada mentre ai lati troviamo a destra santa potenziata con la palma del martirio e santa prassete con la spugna e recipiente dove raccoglieva secondo la tradizione il sangue versato dai martiri durante la persecuzione di antonino pio infine la parete di fronte un affresco realizzato dal romano francesco gai intorno al 1860 che ha per oggetto la flagellazione di cristo e con questo ci fermiamo fine della prima parte un saluto david lab grazie a tutti